Non si può andare avanti a sprecare così i soldi dei cittadini. Abbiamo messo gli occhi dentro l'amministrazione dello Stato, la pubblica amministrazione, le regioni e le province dei comuni e ci si è accapponata la pelle. L'opposizione dice che il suo è un ministero che non esiste e che dovrebbe dimettersi. Allora guardi, l'opposizione, vado a vedere le deleghe, io ho un sacco di deleghe che devo cercare di realizzare, di portare avanti. Ma quali sono, ministro? Quelle che sono scritte. Cioè? Quelle che sono scritte, guardi, io in questo momento qui, in questo momento così. Non si può andare avanti a sprecare così i soldi dei cittadini. Decentramento, federalismo e sussidiarietà. No, no, qualsiasi cosa che è scritto, tutto quello che c'è scritto, che è ricco anche di contributi. Non si può andare avanti a sprecare così i soldi dei cittadini. È una cosa indecente. Non ho mai visto l'Italia dopo che ha perso i mondiali, no? Che se la presa con me.